. Private il gorgonzola della crosta e dividetelo a pezzetti, mettetelo in una terrina e lavoratelo con un cucchiaio di legno. Unite il mascarpone e amalgamate molto bene i formaggi, quindi incorporate i gherigli di noce tritati. Tagliate orizzontalmente la calotta superiore ai panini e togliete parte della mollica. Mettete la mousse di formaggi in una tasca da pasticcere con una bocchetta dentellata, riempite i panini e decorate ognuno di essi con un gheriglio di noce quindi serviteli. Panini Mignon Ingredienti per 4 persone 8 piccoli panini al latte 200 g di gorgonzola dolce 80 g di mascarpone 50 g di gherigli di noce tritati più 8 interi per guarnire Grazie a tutti! Per gustare the년